farlo ma insomma qui alla mamma natale siamo diventati matti fammi vedere il tuo gestino guarda qui pandoro zampone panettone caffè salame formaggio e come se non bastasse crai ma insomma chi sono io dettori market eh? eh sì con la tua scelta così bassa con i tuoi prezzi così bassi e con la qualità crai sei proprio dettori market e attenzione un nuovo grande dettori market ci aspetta in via sangallo ad oggi